Domani anche Piacenza celebrerà in grande stile il 2 giugno nel 72esimo anniversario del referendum che sancì il passaggio dalla monarchia alla Repubblica. Appuntamento alle 11 in piazza Cavalli con la lettura del messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il discorso del prefetto Maurizio Falco. Alla manifestazione è prevista la speciale partecipazione del coro Angelo Genocchi della scuola media Italo Calvino e dell'orchestra del liceo Gioia. Sarà inoltre presente una rappresentanza del coro del liceo scientifico Respighi e di alluni del consiglio di circolo del quarto circolo di Piacenza. Per consentire lo svolgimento delle manifestazioni nella mattinata di domani il mercato settimanale si sposterà sul pubblico passeggio. Inoltre tutte le sedi delle biblioteche comunali saranno chiuse al pubblico. La giornata proseguirà tra storia e cultura con l'apertura festiva dei musei civici di Palazzo Farnese e del museo di storia naturale. Nel pomeriggio dalle 18.30 in prefettura alla presenza delle autorità locali e di personalità della comunità piacentina si terrà la cerimonia di consegna delle onorificenze dell'ordine al merito della Repubblica Italiana, di una medaglia di bronzo al valore civile e delle medaglie d'onore concesse ai cittadini militari e civili deportati nei lager nazisti e dai familiari dei deceduti. La cerimonia si avvarà della preziosa collaborazione degli studenti dell'istituto alberghiero agrario Reineri Marcora e del conservatorio Nicolini che avranno la possibilità di mettere in luce le competenze acquisite e le capacità sviluppate nei corsi di studio. I destinatari delle medaglie d'onore sono alla memoria Luigi Calabrini e Claudio Dotti deportati dai tedeschi nel corso della seconda guerra mondiale. I destinatari delle onorificenze dell'ordine al merito della Repubblica Italiana sono invece per il titolo di commendatore il colonnello Corrado Scattaretico comandante provinciale dei Carabinieri dal settembre 2015 e come cavaliere Antonio Vergata in qualità di sotto ufficiale che ha prestato servizio al ministero della difesa tra il 1979 e il 2015. Il destinatario della medaglia di bronzo al valore civile è invece Gian Paolo Laporta bancario che nel 2008 durante una rapina è riuscito dopo una breve colluttazione a immobilizzare il malvivente assicurandolo alle forze di polizia. Alle 21 infine il teatro municipale ospiterà con ingresso libero il concerto dell'orchestra filarmonica italiana diretta da Fabrizio Cassi con la partecipazione di Leonardo Zoncati al clarinetto e del soprano Elena Monti. Tutto il programma e le modifiche alla viabilità per le manifestazioni della mattina sul nostro sito www.liberta.it